buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 19 dicembre 2023 e ci avviciniamo sempre più alla fine dell'autunno all'inizio dell'inverno ma ancora mancano due giorni oggi si festeggia sant'anastasio lo vediamo qui nella grafica fu un papa che visse nel quarto secolo governò la chiesa solo per due anni dal 399 al 401 ma fu elogiato per la sua povertà e per la sua dedizione in modo particolare per il suo zelo apostolico da sant'agostino san girolamo e san paolino di nola quindi veramente un papa molto molto edificante sant'anastasio sant'anastasio prima perché poi ne vennero altri con il suo nome le previsioni del tempo abbiamo ancora bel tempo sulle marche ci sarà ancora per qualche giorno c'è l'alta pressione tempo stabile su tutta la regione con sole incontrastato al mattino c'è qualche foschia sulle pianure in modo particolare anche sul litorale ma questa mattina la visibilità era buona nella provincia di peso l'urbino i venti sulle coste spireranno da una direzione debole da sud mentre nell'interno da sud e sud este il mare è leggermente mosso le temperature dai 5 ai 14 gradi 5 la minima 14 la massima e il sole sorgerà alle 7 e 30 e 36 e tramonterà alle 16 e 30 questa è un po' la giornata che si accorcia ancora leggermente per poi invece aumentare nei prossimi giorni la giornata nel senso la luce del giorno che cominterà ad aumentare sempre di più allora oggi iniziamo per primo dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo che emerge una protesta una protesta da parte dei residenti di Viale Dante Lighieri Viale Dante Lighieri costituisce un problema che è stato un po' messo da parte accantonato dall'amministrazione comunale che è coinvolta in questi ultimi tempi a interessarsi di molti molti cantieri ma Viale Dante Lighieri insomma è stata un pochino lasciata in disparte qual è il problema di Viale Dante Lighieri secondo quello che denunciano i residenti è quello della pista pedonale, pista pedonale che è stata evidenziata diciamo così quando è stata realizzata la pista ciclabile, Viale Dante Lighieri è stata regolarizzata con una careggiata, una pista ciclabile sul lato monte e quindi la pista pedonale cioè un passaggio riservato ai pedoni tra la pista ciclabile e la facciata delle case ma questo percorso è un percorso ad ostacoli perché continuamente interrotto dai cassonetti dei rifiuti e dalle auto che si pongono irregolarmente in sosta. Vediamo qui una fotografia di quello che incontrano i pedoni i quali ovviamente non riescono a passare nel loro passaggio perché incontrano i cassonetti e questo ce ne sono parecchi poi nel corso del vialetto e allora cosa succede? Succede che sono costretti a passare sulla pista ciclabile dove le biciclette ovviamente essendo quella la loro corsia passano a forte velocità e quindi rischiano di essere investiti e poi ci sono le auto, le auto che parcheggiano in questi spazi liberi e anche qui insomma c'è rischio per i pedoni. Ecco perché i residenti se ne fa portavoce l'avvocato Antonio Secli che insorge e chiede all'amministrazione comunale attenzione per questo problema come era stato promesso fin dalla prima riunione che c'è stata nel mese di marzo. Quindi anche questo problema dovrebbe essere risolto. Se non si fa un marciapiede almeno si stabilizzi il percorso che ora è fatto solo con la breccia quindi pensate quando piove che cosa accade. Raccolta dei rifiuti differenziati spesso in ritardo. C'è un disservizio che viene evidenziato oggi da una signora che abita da vent'anni a Fano, si tratta di Stefania Rocco, la quale si lamenta perché esponendo il bidoncino dei rifiuti i rifiuti non sono stati prelevati come era da calendario dall'operatore dell'ASET e quindi la signora chiede più attenzione perché insomma la raccolta dei rifiuti grava piuttosto pesantemente sui bilanci familiari e almeno il servizio sia all'altezza della situazione, ha detto la signora. Invece a fondo pagina abbiamo un articolo che riguarda la promozione della Moretta, una promozione di cui si fa partecipe e lo fa spesso la Confesercenti, l'associazione di categoria che ha organizzato degli incontri che si svolgono al pincio tra un pasticcere e un barista i quali evidenziano tutte le bontà, tutte le magnificenze di questa bevanda che è una bevanda energetica, una bevanda che esalta il gusto e il profumo del caffè con poi le aggiunte che si fanno perché il caffè diventi Moretta è quindi veramente una bevanda tipica di Fano che esalta anche la nostra tradizione una tradizione che si aggancia con le tradizioni marinaresche, quelle dei portolotti. Parliamo di politica, parliamo di politica perché quello che avevamo anticipato nei giorni scorsi ora è stato formalizzato. Si tratta della candidatura a sindaco dell'assessore alla cultura Cora Fattori Cora Fattori che rappresenta Europa più ha annunciato la propria candidatura ed ora sono quattro i candidati del centro-sinistra Cora Fattori, 42 anni, ha sciolto le riserve che prima si nascondeva un pochino ora invece si fa avanti con determinazione ebbene il suo disegno è quello di puntare in modo particolare sull'efficientismo sull'energia che dovrebbe regolare un po' diversi settori della nostra città un settore a cui lei poi si è dedicata come assessore accompagnandolo con quello della cultura con l'attenzione alla cultura fanese lo faccio per dedizione alla città dove sono nata conferma la sua candidatura ed è il quarto sfidante del centro-sinistra ed ora c'è un buon affollamento nel centro-sinistra di candidati quattro candidati che cosa è accaduto nella riunione di ieri sera che doveva un po' decidere che cosa fare all'interno del centro-sinistra ancora non lo sappiamo ma nel corso della giornata io credo che questa notizia verrà fuori e quindi vedremo poi cosa avrà deciso se ci sarà un candidato unico, se si procederà alle primarie e poi quali saranno i contatti con il gruppo dei progressisti ma il gruppo dei progressisti ancora sta sulle sue e lo vediamo in questo articolo le primarie ostacolano la coalizione allargata perché i progressisti di primarie proprio non ne vogliono sentire parlare le primarie sono segno di divisioni all'interno delle forze politiche lo ha ribadito anche la consigliera regionale Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle le primarie ostacolano la coalizione allargata e quindi c'è ancora di che discutere di che confrontarsi all'interno del centro-sinistra mentre al momento il centro-destra così tace e probabilmente uscirà dopo le feste natalizie e credo che uscirà con tutti i suoi candidati in gara 65 aziende Olea premia le Marche si è tenuto sabato scorso al COGMA la premiazione dell'Oro delle Marche e con l'Oro delle Marche è giusto che si definisca proprio l'olio prodotto appunto nel nostro territorio perché è un cibo prezioso è un cibo sano un cibo che fa bene alla salute è un cibo che esalta poi gli altri sapori i sapori dei condimenti i sapori dei primi i sapori delle pietanze insomma un alimento che fa economia nella nostra città purtroppo, purtroppo dobbiamo dire che la stagione non è stata propizia le condizioni atmosferiche hanno ridotto drasticamente la produzione il presidente di Olea Renzo Cecacci ha parlato dell'80% ma comunque ha lodato anche i produttori perché in questo clima difficile sono riusciti ad esaltare ugualmente la qualità del prodotto e sono stati diversi i produttori che hanno ricevuto i premi si tratta delle diverse categorie vediamo sono categorie che riguardano gli olivocoltori sezione blend fruttato medio fruttato misto monocultivare insomma sono diverse categorie che riguardano soprattutto gli intenditori gli esperti però insomma il pubblico viene sempre educato ancora di più a selezionare l'olio e acquistare quello veramente buono quello che fa bene alla salute magari scartando i prodotti sotto costo che vengono venduti nei supermercati vediamo anche un premio che è stato dato a chi produce l'olio per casa e in questo caso i fanesi sono fatti veramente onore tutti i nomi vengono pubblicati oggi dal Corriere Adriatico giriamo ancora la pagina parliamo del palasport del palasport di cui si era accennato nei giorni scorsi l'idea che la Profilglas il presidente della Profilglas Paci avesse avuto l'intenzione di realizzare questa grande struttura a sue spese però al momento non c'è nulla sulla carta e non ci sono né i fondi né il progetto l'ipotesi al risparmio realizzare una struttura più piccola non soddisfa nessuno tantomeno la Virtus che insomma dovrebbe utilizzare questa struttura nuova in modo più appropriato di quanto fa adesso con il palas all'Iende e ci sono anche le accuse dell'Udc se ne fa partecipe il delegato allo sport Achille Cacace che dubita che nell'impresa si riesca a identificare proprio poi la famiglia Paci per realizzare questo progetto sì perché se ne era parlato un anno fa ma da allora non si è saputo più niente allora questa questione va avanti o non va avanti dice appunto l'Udc insomma al momento c'è un'idea c'è un proposito ma non c'è né progetto né fondi la Contessa allora la Contessa riporta l'ottimismo questo invece è una realizzazione concreta finalmente si è aperta la Contessa questa arteria importante che collega l'Umbria alle Marche in modo particolare collega l'Umbria alla nostra provincia un collegamento che fa economia intitola giustamente il Corriere Adriatico perché in questo periodo di chiusura ne hanno risentito tutte le aziende che operano nel territorio in modo particolare quelle di Cagli quelle di Cantiano ma anche quelle della riviera della costa perché poi il turismo ovviamente ha preso altre strade e non è venuto nella nostra provincia ora tutto ritorna in modo regolare i lavori hanno interessato un viadotto importante un viadotto il cui costo è stato di 6 milioni di euro lungo 107 metri ad un'altezza massima di 20 con 6 campate e in più anche la galleria la cui sistemazione è costata 3,3 milioni 400 mila euro ed è lunga un chilometro e 200 metri questo percorso è stato ripristinato e finalmente le aziende tornano a respirare giriamo ancora la pagina e passiamo a Senigallia a Senigallia camerieri introvabili a Capodanno e nei ristoranti il cenone è da sporto ebbene non si trovano camerieri anche i camerieri coloro che fanno i camerieri a Capodanno vogliono festeggiare vogliono sedersi ai tavoli piuttosto che servire pranzi e cene e allora i proprietari dei ristoranti cosa fanno? preparano il menù da asporto ed è bello poi perché in questo caso le donne di casa non preparano da mangiare e fanno festa a Capodanno e in più si cena si franza in famiglia e quindi in un'atmosfera veramente piacevole e molto più cordiale camerieri introvabili a Capodanno nei ristoranti il cenone è da sporto festa a casa poi tutti in piazza questo è l'ultimo dell'anno ovviamente Bramunci della Confcommercio dice take away formula sempre più diffusa e poi abbiamo un articolo di cronaca furti in serie irruzioni in tre scuole prendono spiccioli e lasciano danni danni veramente ingenti per circa 4.000 euro per rubare soltanto pochi spiccioli e sono state depredate le scuole della Sangaudenzio a Borgo Picchia la Pascoli in centro e la Marchetti alle Saline vandali che ovviamente hanno fatto dei danni qui vediamo delle finestre sfondate delle porte prese a calci e rovinate ancora il processo di Corinaldo le vittime della Lanterna Azzurra attendono giustizia prosegue dunque la requisitoria del PM giovedì ci saranno le eventuali richieste di condanna per tutti gli imputati vediamo la pagina di Pesaro dove l'apertura è dedicata vediamo qua eccola è dedicata alla raccolta dei rifiuti perché nei prossimi giorni ci sarà un cambiamento ancora più importante rispetto a quello che in via sperimentale è stato attuato in precedenza ecco isole in tutta la ZTL è un servizio rivoluzionato per altri 3.000 utenti quindi si amplia questo servizio con la tesserina dal 22 gennaio saranno in funzione i cassonetti intelligenti per i rifiuti differenziati e dal 5 febbraio la raccolta porta a porta verrà definitivamente abbandonata e dal 5 febbraio dunque tutto il centro sarà servito da queste eco isole vediamo qui i cassonetti i cassonetti intelligenti che hanno questa forma per la raccolta differenziata e saranno tutte eco isole che entreranno in funzione dal 22 gennaio la data però da segnalare nel calendario è quella del 5 del 5 febbraio quando le eco isole informatizzate sostituiranno il tradizionale sistema di raccolta porta a porta quindi una grande rivoluzione per quanto riguarda Pesaro Fano cerca lo stesso di seguire questo esempio ma qui i tempi sono ancora più lunghi quello che è stato sperimentato a San Costanzo dovrebbe costituire un punto di riferimento anche per l'estensione di questo tipo di raccolta rifiuti nel nostro territorio per il mercato delle erbe solo tende e ombrelloni lo richiede la soprintendenza e quindi non ci saranno tettoie dopo il trasloco in via Gavardini Pesaro 2024 la regione stanzia finalmente dobbiamo dire i soldi sono 500 mila euro che sono stati a lungo sollecitati anche dal consigliere regionale Andrea Biancani e poi c'è un'inchiesta che si sta conducendo in merito alla morte del giudice Francesca Ercolini deceduta nella sua abitazione giudice trovata morta un anno dopo il marito indagato per maltrattamenti è stato aperto un fascicolo dalla procura dell'Aquila dopo la denuncia presentata dai familiari di Francesca Ercolini che qui vediamo nella fotografia ebbene per i familiari la donna sarebbe stata sottoposta a una vita non conforme alla normale esistenza avrebbe subito umiliazioni e mortificazioni ci sarebbero anche delle immagini delle quali emergerebbero lividi che sarebbero stato il risultato di violenze domestiche ecco perché si indaga in merito a questa morte anche un anno dopo e allora parliamo invece del clima di Natale un clima votato alla solidarietà il Conad di Pesaro invita i poveri a pranzo nell'iper Conad il supermercato l'ipermercato sarà il teatro di un mega pranzo per tutti coloro appunto che non se la passano bene ma poi c'è un'altra un'altra iniziativa è quella della cena di Natale che è organizzata dalla parrocchia dei Capocini dedicata a chi non ha un tetto da dove vivere dopo il lungo stop per il Covid in modo particolare per delle festività al servizio al prossimo che meno fortunato potrà appunto usufruire di questo clima di serenità almeno nel giorno di Natale e qui voglio segnalarvi anche un'iniziativa che è del tutto originale ebbene a Pesaro abbiamo un come definire questo un post un post su un muro un manifesto attaccato a un muro dove ciascuno può scrivere quello che sente dentro i propri sentimenti e ci sono espressioni così semplici ma veramente espressioni che nascono da quello che uno nutre all'interno del suo animo ti amo oppure ancora e chi solo io e te con il cuore anche se poi qualcuno aggiunge io e te io no insomma sono espressioni che riguardano delle espressioni delle cose che nessuno ha mai voluto comunicare direttamente e che invece comunicando su un muro alla vista di tutti ebbene si riesce un po' a esplicare quello che mai uno avrebbe avuto l'idea di dichiarare carte penna ed emozioni meno virtuali ora si appendono al muro spopola la street art le dichiarazioni che non ho mai fatto l'iniziativa è di Laura Bitondo e di Eugenio Mazzone non l'ho spiegato bene questa cosa ma vi invito a leggerla perché quando si parla di sentimenti è sempre un po' difficile sondare all'interno dell'animo delle persone quindi ciascuno può farsi un'idea di quello che dice questo articolo vediamo ad Urbino ad Urbino invece l'articolo è molto chiaro il parcheggio dei bus la scure del mutuo sui prossimi conti di Urbino Servizi un mutuo che cresce come purtroppo cresce all'interno anche del bilancio di molte famiglie dagli attuali 64.000 euro la spesa aumenterà a oltre 300.000 nel 2024 insomma anche Urbino sopporta quello che accade in questa situazione delle muti dell'aumento dei tassi ed ora passiamo al resto del Carlino al resto del Carlino abbiamo una denuncia per quanto riguarda la sanità una donna si tratta di Lucia Fragasso 64 anni vittima di un incidente è stata investita mentre camminava mentre procedeva in sella la sua bicicletta è caduta abbattuto alla testa è stata ricoverata al pronto soccorso ma qui secondo quanto ha dichiarato lei stessa le cure hanno tardato a essere praticate la testimonianza di una 64enne portata in ospedale in seguito a un incidente ho atteso sette ore nessuno mi visitava e non mi portavano neanche la padella a un certo punto ha dovuto fare quello che si sentiva di fare nella lettiga non ce l'ho più fatta ero mortificata ha detto che umiliazione al pronto soccorso alla fine ho chiamato la polizia è stata ricoverata in codice giallo poi sembra che il codice sia stato cambiato in verde e a casa ora è con una prognosi di una settimana anche qui si denuncia un po' l'insufficienza del pronto soccorso anche se gli operatori fanno del loro meglio per cercare di venire incontro alle istanze di coloro che frequentano questo riparto questo riparto importante questa porta d'ingresso all'ospedale di Fano una colletta in memoria di Federica una raccolta fondi per la ricerca sui timori sui tumori giovanili nel nome di Federica Polverari ebbene un'iniziativa che viene fatta in memoria della 26enne fanese morta il 15 novembre scorso il giorno prima di poter discutere la sua tesi di Laura guardate che bella ragazza che era questa ragazza e questa iniziativa in memoria di Federica chi può fare una donazione può rivolgersi nelle coordinate bancarie che vengono adesso non le sto a leggere perché i numeri sono tanti che sono state pubblicate sul resto del Carlino e poi abbiamo l'articolo che riguarda la candidatura di Cora Fattori le primarie sono al bivio perché adesso l'affluenza dei candidati è piuttosto cospicua l'assessore si pone come elemento di novità fuori dagli schemi poi proseguirà il confronto con i progressisti ha detto Cora Fattori 8 milioni di nuovi scogli e già Natale a Metauriglia esultano i bagnini in modo particolare di Metauriglia della zona sud del fiume Metauro perché finalmente la costa verrà protetta e anche le loro attrezzature balneari non subiranno più gli effetti dell'erosione e siamo in conclusione voglio solo segnalarvi ancora una notizia di Urbino c'è una presa di posizioni di Giorgio Londei già sindaco della città Ducale il quale afferma Gambini è troppo tiepido sulla legge speciale quella che riconosce Urbino appunto come una città una città che fa parte dell'antico Ducato e quindi merita più attenzione e questo è tutto per il momento vi auguro una buona giornata e come sempre vi do appuntamento alle 7 di domani mattina buona giornata grazie a tutti